Ciao Moreno! Ciao! Ci siamo con la tartare. Abbiamo iniziato, sì. Senti, questa è... com'è fatta? La tartare è fatta in due modi. Una è semplice, la chiamiamo nature. Diciamo una è fatta bene, una è fatta male. Olio, sale, pepe e pasta. E poi un'aggiunta di limone se non gradisce sopra. L'altra invece è leggermente condita, con dei capperini, un pochino di cipolla e una puntina puntina di acciuga e un cucchiaino di aceto. Questa è quella condita e quest'altra invece è quella natura. L'importante è che è carne di chianina certificata. Abbiamo macellato un vitello di chianina, io e il mio macellaio. Lì ho i dati del vitello, nato, cresciuto, per cui l'importante è la tracciabilità e questa è una carne favolosa. Senti, a proposito di dati, per venirti a trovare e venire a mangiare al tuo ristorante? Sì, bisogna uscire da Pistoia, andare verso Firenze, perché io sono l'ultimo ristorante in provincia di Pistoia, dopo 50 metri di mio ristorante inizio da Prato. Ecco, quindi da Prato e da Firenze possono venire comodamente? Sì, sono a catena di Quarrata, praticamente sotto le colline di Carmignano. Senti, ti faccio... Non per niente da me trovi tutti i vini di Carmignano, perché io sono un patito del Carmignano. Senti, ti faccio appoggiare questo tagliere. Hai preparato anche un altro piatto qui? Sì, sì, certo. Vieni, andiamo di qua. Eccoci. Aspetta, prendiamo questo. Un attimo. Aspetta, prendiamo quello che è.